questo servizio è offerto da pop up studio tirri centro commerciale il porto prima del girone di ritorno il licata ancora il dino liotta dopo la bella vittoria rimonta contro il castrovillari gira la boa del girone e quindi affronterà nuovamente il marina di ragusa stavolta ovviamente tra le mura amiche e il marina ci prova con questa prima conclusione che sfiora il palo dopo appena 35 secondi di gioco marina pericoloso con simone brunetti che ha cercato in vano l'arrivo della palla da parte civilleri cannavo ci prova tiro che è uscito un paio di metri sull'avversario un'altra finta palla che va sul sinistro cross tagliato non ci arriva civilleri greco ci prova conclusione centrale al volo praticamente nessuno quindi lo rincorre di bari anticipa brunetti può entrare in area di variazione molto pericolosa balde sbaglia da una sorta di rigore in movimento non c'è munizione c'è solo fallo senza cattiveria ma evidentemente in ritardo civilleri prove filtrante per jelzi fa sul fondo jelzi palla in mezzo non ci arriva né cannavoi né catalano corne della gara ventunesimo parte catalano il cross è tagliato in mezzo civilleri sfiora il palo di testa con pellegrino proteso in tuffo civilleri un altro cross di catalano con il cross che arriva a guarino poi sbaglia a un metro e mezzo dalla porta cannavoi ha provato la cosa più difficile gli è uscito praticamente un tiraccio quest'antonio la doveva solo spingere dentro sprovveduto quindi sono quelle classiche partite che prima segni meglio è catalano cerca il fondo il cross tagliato questa era un'altra palla da mettere dentro non ci ha creduto cannavoi che forse voleva una palla più indietro ma molto cercato catalano altro cross in mezzo jelzi la sfiorata il numero 7 dell'elicata di stare faticolosamente dei punti e maria gusa per esempio l'aveva conquistati con un elicata che certamente attenzione scusami civilleri perde un bruttissimo pallone baltè la piazza e moschella è costretto a rifugiarsi in corner errore grave di civilleri che chiede scusa di ritorno buono per jelzi che può puntare giuliano prova l'uno contro uno in velocità jelzi arriva sul fondo mette un'altra palla debole in mezzo ma ci è arrivato forse con l'ultima goccia di energia poi riandare a rituffarsi nel cuore dell'area del marina mazzamuto prova a superare cervillera gioca con la suola mazzamuto guadagna il fondo il cross jelzi il tiro che viene toccato da pugliesi corner per il licata jelzi è uno tra i migliori assieme a catalano altro cross in mezzo la tocca civilleri e pellegrino con l'aiuto della traversa si salva ancora azione clamorosa tre piedi la rimette in mezzo va mannoni pallone basso la gira pugliesi altissime finisce qua su quest'ultima emozione un bel primo tempo regolare siamo proprio sulla linea di fondo cross in mezzo pugliesi non ci arriva jelzi palla per tre piedi che prova ancora il cross civilleri tratte punizione per il marina parte giuliano palla un metro se non ti più sopra la traversa parte catalano il cross tagliato monte leone ha rischiato tanto in questa situazione ha rischiato quasi l'autogol è stato anche provvidenziale solita mischia in aria parte il cross di catalano palla che arriva jelzi che la gira esce con i pugni pellegrino cannavo palla deviata fil di palo salva cervillera salva cervillera e licata non è assolutamente fortunato siamo fortunati ma ora stiamo pressando tanto il bene di ragusa e l'errore andrea arriverà voglio essere così convinto che il gol è nell'aria altro cross di catalano in mezzo civilleri e guarino segna guarino ed è il gol che sbrocca la gara profetico giuseppe patti alla prima occasione adesso sì che arriva del gol e arriva la prima rete per vincenzo guarino primo gol con la maglia dell'elicata al minuto 13 sulla torre di civilleri c'è arrivato guarino reazione sulla sinistra con cervillera scappa iezi scappa mazzamuto tensione cervillera serve balde in aria che però difficoltà a girarsi stefano brunetti moschella pare con i pugni ma ancora non è finita cervillera sfrutta il fondo è uscita la palla tra palla cercare tre piedi a destra c'è mazzamuto tre piedi in mezzo il tiro mezzo metro alto giuliano perde il pallone sull'intervento di iezi iezi palla che non rimane in disponibilità del calciatore dell'elicata si lamentano di un fallo di mano sul cross l'ha cercato cannavoi balde le finte su maltese giammonito attenzione balde in trenario balde fa tutto da solo moschella decisivo che parata di moschella che parata di moschella una palla per niente semplice andrà delicata si distende la formazione giallo blu va in ampiezza adesso con catalano catalano in trenaria catalano il cross basso tocchiato da mannoni ancora verso balde col petto appoggia diemea altro passaggio tra i due calciatori del marina palla che passa fuori gioco di tripoli fuori gioco di tripoli per moschella va puglisi toccata la sfera viene indebolita la potenza di questa punizione para moschella marina ragusa di pervenire al pareggio ma cannavoa prende la palla al limite civilleri regolare civilleri civilleri e l'icoda raddoppia con una grande azione sull'asse cannavo civilleri che segna il secondo gol in campionato quando siamo al ventinovesimo minuto della ripresa e l'icoda mette una serie ipoteca sulla partita con marco civilleri assolutamente sì sul due serve sulla sinistra catalano catalano da un'occhiata al secondo palo prova questa conclusione che si perde fuori civilleri a sinistra c'è caronia lo vede civilleri caronia punta cannia caronia entra in aria le finte il gioco di gambe caronia non fa il suo tiro a giro esce cannavoa entra peppe dama civilleri il cross proprio per dama che all'occasione di entrare subito nel tabellino ma da una posizione defilata ci ha provato col piattone palla alta ecco gli tocca il pallone arriva dama dama pallone con la suola gira due avversari e serve greco ma greco in campo aperto greco riesce con il pallone de luca va tutto solo de luca salva per leghino greco 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 il 3 a 0 delicata segna ancora il 2002 ma grande merito a quel signore con la maglia numero 22 peppe dama grande peppe dama che in tre minuti di gioco ha fornito due assist incredibili due dalle suoi piedi sono partite due azioni assurde per dama che lascia scorrere per de luca de luca palla al piede da un'occhiata verso la porta prova di precisione manca la potenza altro cross palla che arriva a dieme controllo infelice finisce proprio qui la partita è licata vince con un secco 3 a 0 sul marina di raguso una gara che era terminata 0 a 0 nel primo tempo quindi tutte le reti nella ripresa al 58esimo guarino al 74esimo civilleri e al 92esimo benedetto greco non prego Grazie a tutti